Diagnosi di Covid-19 effettuate con 78 tamponi diversi, di cui nessuno validato, valutato e autorizzato preventivamente, la cui inaffidabilità è stata addirittura certificata dalla Commissione Europea e dall'Istituto Superiore di Sanità. La denuncia arriva dal Codacons e dall'Associazione Italiana Diritti del Malato, con un esposto depositato alle procure della Repubblica di Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Grigento, Trapani e Messina. La richiesta è di svolgere adeguate indagini per i reati di truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, procurato allarme, falso ideologico e omicidio colposo. Con una dichiarazione congiunta, un gruppo di esperti e ricercatori scientifici di fame internazionale hanno infatti rilevato che i risultati dei tamponi sono del tutto inattendibili e che proseguire nell'utilizzo dei tamponi da cui ricavare dati utili a determinare proclami sullo stato di emergenza, quarantena individuali o di gruppo e per imporre limitazioni ai lockdown dalle scuole alle imprese e alle famiglie è praticamente senza nessun fondamento scientifico. In particolare, secondo il professore Stefano Scoio, che ha coordinato le attività per Italia e realizzato lo studio, i tamponi Covid-19 producono fino al 95% di falsi positivi, come certificato dall'Istituto Superiore di Sanità. Il che comporta, si legge nella nota diramata dal Kodakons, che non esiste tutt'oggi nessun marker specifico del virus e quindi nessuno standard che possa rendere i tamponi affidabili. Dietro l'alto numero di tamponi falsamente positivi, prosegue la nota, si potrebbe nascondere inoltre un grosso business ospedaliero. Secondo quanto dichiarato dall'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, infatti, gli ospedali non si privano dei malati Covid per l'alto indennizzo dato per i ricoveri. Grazie a tutti.